Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lutto nel mondo del giornalismo italiano, nelle scorse ore, è stato attivo sugli scenari di guerra, nel corso degli anni. Infatti, ha avuto la possibilità di raccontare le guerre in Cambogia, Libano, Somalia, Iraq, Kosovo, fino ad arrivare a quella in Afghanistan. Per 38 anni ha lavorato come capo del servizio fotografico del tempo. Inoltre, è stato collaborato dell'Ansa ed ha lavorato anche al Giornale d'Italia. È venuto a mancare a 82 anni lo storico fotoreporter Mario De Renzis. È venuto a mancare questa notte a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato nel 2012. Gabriele, il figlio, ha raccontato che la mamma e moglie di Mario De Renzis è morta da 20 anni ed il padre ha subito molto questa assenza. Nonostante questo, ha dato tutto se stesso per la famiglia e per il lavoro.